ciao tornata dalle vacanze voglio proporvi questo pane userò anche due farine che ho comprato su in alto adige la farina del molino merano e la ripper userò anche un po di semola quindi un misto semola pugliese qui ho saltato la procedura dell'autolisi che conoscete bene e sto impastando sto impastando aggiungendo l'ultima acqua poco a poco e quando l'impasto è pronto quindi 10 10 minuti 15 e lo metto sul piano di lavoro e faccio lo piego così semplicemente lo arrotondo un pochino farò questo pane in giornata il lievito madre l'ho rinfrescato ieri sera e quindi l'ho usato subito questa mattina ora lo metto metto l'impasto in una ciotola oliata copro e lo lascio all'incirca 4 ore dopodiché una volta aumentato di volume farò le classiche pieghe a 3 qui ve ne faccio vedere una la prima poi ne farò anche un'altra quindi farò due giri di pieghe classiche a 3 ecco qua piego chiudo per benino piego ancora ok ecco qua questa è la prima quindi copro con la ciotola e lascio almeno 30 minuti se l'aria qui da noi ancora fa caldo altrimenti anche un'oretta quando vedete l'impasto si rilassa facciamo un altro giro e poi finito il procedimento delle pieghe una volta pronto vado a formare formo il filone è un filone abbastanza grandino quindi bello lunghetto lo piego in questo modo però se volete potete anche usare un altro metodo non è un problema io questa volta faccio così lo chiudo per benino quindi tutto a temperatura ambiente pane fatto in giornata naturalmente con le temperature che stanno ancora ai 27 gradi diciamo anche 30 dipende dall'orario lo metto dentro il mio cestino ho messo un po di semola sotto e sopra lo copro senza stringerlo molto poi ci metto un altro telo sopra e lo metto poi a lievitare fino a che non aumenta di volume quindi 4-5 ore dipende decidete voi valutate ad occhio ed eccolo vedete come si è gonfiato è pronto è pronto da infornare quindi ho già acceso il forno per portarlo a temperatura programmato con due spruzzi di vapore se non avete il forno con il vapore spruzzate due volte con lo spruzzino anche all'inizio quando mettete il pane oppure mettete un pentolino è il classico pentolino e toglierete dopo 20 minuti allora adesso ci faccio un taglio soltanto un taglio e poi vado a far scivolare nel forno con la con la pala quindi sapete se usate la pietra fatela scaldare benino io metto direttamente sulla teglia del forno che è diventata bella rovente questo è il taglio vedete ho affondato un pochino il traverso ok aspettiamo la cottura allora vedete piano piano ho messo la sequenza come sta crescendo e come si è aperto sta venendo molto bene è cresciuto anche in altezza eccolo qua a me piace a me a mio marito piace ben cotto quindi lo faccio dorare per benino aspettiamo naturalmente che si fredda prima di tagliarlo e poi lo apriamo almeno un'ora un'ora anche due ore bello direi che è venuto molto bene che ne dite c'è anche il coniglietto bene amici vi ringrazio della visione come al solito vi invito a condividere il video a lasciare un like e commentare ciao a tutti e spero spero di risentirci prestissimo anche se in questo periodo non sto pubblicando molto bene ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti